Musica Approvate tre leggi dal Consiglio regionale per lo stanziamento di un milione e mezzo di euro a sostegno di alcune delle categorie più colpite dalla crisi. Il Consiglio regionale approva all'unanimità una mozione per valutare un'azione legale contro Pfizer per i ritardi nelle forniture dei vaccini per il Covid. Un milione e mezzo per proloco, maestri di sci e lavoratori dello spettacolo. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto unanime la legge per le misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza Covid. Il provvedimento d'iniziativa dell'ufficio di presidenza che mette a disposizione un milione di euro ha come obiettivo il sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo fortemente penalizzati dalla perdurante interruzione delle attività di spettacolo determinate se a seguito della pandemia. La legge composta da sette articoli prevede interventi di sostegno una tantum anche a fronte di iniziative culturali per la valorizzazione dell'identità toscana. I beneficiari che potranno ottenere i contributi nel limite massimo di 3.000 euro ciascuno saranno individuati mediante un avviso pubblico. Abbiamo in ufficio di presidenza elaborato un testo di contributo ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Innesima categoria di fatto poco o nulla considerata dai provvedimenti di ristoro nazionali. Molti sono i soggetti dello spettacolo che versano in situazioni veramente difficili. Questo non lo possiamo accettare come istituzione regionale. Ecco perché attraverso i risparmi dei costi della macchina del Consiglio regionale abbiamo deciso di venire incontro a questa categoria. Un milione di euro ci saranno finalmente di contributi anche a questa categoria. Un segnale importante. Abbiamo anche firmato degli emendamenti presentati dalla Quinta Commissione per far sì che il testo potesse essere ancora migliore. Si sta facendo un buon lavoro di squadra e dal mio punto di vista occorre veramente lavorare tutti insieme per aiutare le persone. Questo è un po' quello che ci chiede il mondo esterno. Conserviamo i nostri ruoli, le nostre differenti posizioni però in questo momento almeno nell'aiutare chi è colpito dall'emergenza dobbiamo essere uniti. Il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo. Per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere un milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro ovvero di portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana. Noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città ma in ogni singolo borgo, in ogni piccolo paese che è rappresentato appunto dalla bellezza, dal bello e per questo siamo molto felici che la regione Toscana impegni un milione di euro per valorizzare tutto questo, per regalare ai nostri figli un patrimonio culturale, artistico, spettacolare di un milione di euro che potrà essere utilizzato anche nelle scuole appunto per valorizzare, per difendere e supportare questa identità toscana che è uno degli aspetti più belli di questa regione. Il Consiglio ha approvato anche il sostegno economico di 250.000 euro una tantum alle associazioni pro loco della Toscana la legge presentata su iniziativa dell'ufficio di presidenza è stata approvata all'unanimità in arrivo infine 200.000 euro anche per la categoria dei maestri di sci della Toscana il sostegno economico di 800 euro una tantum per il 2020 andrà ad ogni maestro di sci che lavora in modo continuativo nella regione e che si è iscritto all'albo professionale tenuto dal collegio regionale dei maestri di sci Abbiamo scelto due categorie che non avevano avuto nessun tipo di ristoro dal governo nazionale in particolare i maestri di sci che in Toscana sono circa 200 e qualche novità in più la legge è di circa 200.000 euro con un contributo, un tetto massimo per ciascun operatore di circa 800 euro quindi seguirà un bando ovviamente, ne dovranno fare richiesta, questo è l'ammontare di questa legge insieme a questa si aggiunge quella delle pro loco, 250.000 euro sempre per l'emergenza covid perché è ovvio che le pro loco non hanno potuto svolgere tutte quelle attività attrazione turistica, manifestazioni tipiche dell'animazione dei nostri borghi quindi abbiamo ritenuto giusto anche mantenere per dare quel senso di aggregazione sociale che le pro loco svolgono nella nostra Toscana e l'abbiamo fatto con i risparmi del Consiglio regionale quindi il messaggio importante è proprio quello di aver stanziato delle risorse del Consiglio per andare a ristorare due categorie che sicuramente avevano sofferto come molte altre ma che in questo caso non avevano ricevuto nessun tipo di contributo uno dei problemi più grandi che questo governo è riuscito ad affrontare è stato quello di riuscire a dare il ristoro più esteso possibile a tutte le categorie e delle volte non è stato facile, complice le rigidità dei codici Ateco ma molte altre questioni è importante quindi che anche le regioni si facciano carico di questi ristori laddove possono e nella misura in cui possono consapevoli che la coperta comunque sia non riesce a coprire tutto quindi benvengano i ristori per i maestri di sci ma anche per le categorie del mondo spettacolo con una puntualizzazione molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche della comune di Firenze che è quello per certi versi più ricco ma ci sono moltissime piccole e piccolissime realtà che costituiscono la cultura, l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa ad esempio delle aree interne è importante che questi soldi arrivino anche a loro anzi direi che è fondamentale Credo che il Consiglio regionale questa volta abbia dato dimostrazione di come e quando si riesce a lavorare tutti insieme per il bene dei cittadini delle imprese, delle famiglie toscane si riesce anche a dare una risposta naturalmente nei limiti del budget e delle risorse che il Consiglio regionale ha ma abbiamo fatto una scelta chiara tutti insieme il mio ringraziamento va all'ufficio di presidenza al presidente Mazzeo, ai vicepresidenti Casucci al vicepresidente Scaramea tutto l'ufficio di presidenza nella sua completezza perché ha portato una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte e tutti i gruppi consigliari avevano sottoposto all'ufficio di presidenza da un lato la cultura dall'altro il mondo dello sport compreso i maestri di sci quindi un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà la scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali dai ristori della giunta regionale questo naturalmente per noi non basta chiediamo alla giunta di fare un salto di qualità in più di mettere più risorse a disposizione soprattutto delle attività commerciali perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese e questo non possiamo permettercelo ritardi nelle forniture dei vaccini il consiglio regionale valuta l'azione legale la giunta regionale dovrà continuare a monitorare l'organizzazione inerente alla fornitura delle dosi di vaccino per i cittadini toscani e attivarsi qualora si registrassero ritardi rispetto agli accordi stipulati in sede comunitaria in particolare è chiamata ad attivarsi nel caso specifico per valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale condivisa con altre regioni e il governo nei confronti della casa farmaceutica Pfizer-BioNTech in merito a ritardi alle forniture delle dosi di vaccino previste dagli accordi in sede comunitaria è questa la richiesta contenuta nella mozione presentata dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo dobbiamo mettere in campo tutte le azioni che abbiamo per poter vaccinare nel più breve tempo possibile il maggior numero possibile di cittadini per questo l'idea di una mozione trasversale di tutte le forze politiche affinché si possa intraprendere come regione in accordo con il governo un'azione legale nei confronti di quel soggetto in questo caso Pfizer che non rispetta gli impegni che ha preso insieme a noi noi dobbiamo fare in modo e questo lo chiediamo anche all'Europa ho apprezzato molto le parole della presidente della commissione Van der Leyen che diceva con grande chiarezza che i patti vanno rispettati quindi l'impegno che noi oggi abbiamo preso come consiglio regionale è quello di essere attenti al tema di spingere il governo affinché parta questa azione legale per fare in modo non perché vogliamo metterci contro chi produce ha fatto uno sforzo enorme per trovare il vaccino ma perché vogliamo dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana garantirgli il diritto alla salute. La mozione è stata sottoscritta da tutti i capi gruppo e dal presidente della commissione sanità Enrico Sostegni è una mozione condivisa sottoscritta anche da me insieme al presidente è una mozione che chiede di fare luce fare massima attenzione e velocità che chiede rispetto per gli impegni presi con la nostra regione serve essere tempestivi essere puntuali rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari in primis quello degli insegnanti che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario Sì abbiamo sottoscritto l'iniziativa del presidente Mazzeo abbiamo portato anche il nostro contributo volendo sottolineare come in Europa ci siano altri stati non l'Italia che in realtà hanno avuto invece più dosi di quanto contrattate nella prima fase di contrattazione quindi c'è qualcuno che ha avuto più dosi di quelle che aspettavano dagli accordi iniziali e ci sono paesi come l'Italia e nella fattispecie la Toscana che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci quindi la situazione è difficile io spero che la regione toscana ma non solo l'Italia tutta si costituisca in questa azione legale contro Pfizer e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile la sosteniamo la firmeremo però facciamo una proposta ulteriore che secondo noi è ancora più importante utilizzare l'articolo 31 di un trattato ortennazionale l'acronimo si chiama TRIPS che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria cioè la possibilità di produrre vaccini ma anche farmaci in casi di emergenze eccezionali da parte di aziende che non sono quelle produttrici in questo caso l'Advisor e questo viene fatto proprio per la situazione di enorme emergenza in cui ci ha gettato anche non soltanto la pandemia ma anche delle aziende delle multinazionali che lo devo ricordare soprattutto a tutti quelli che elogiano la sanità il privato nella sanità loro devono fare interessi di mercato i governi invece devono fare gli interessi della popolazione allora io mi rivolgo ai sovranisti ma anche a quelli che si dichiarano di sinistra questo è il momento di fare una scelta forza facciamo produrre il vaccino alle nostre aziende utilizzando questa possibilità della licenza obbligatoria quindi in pratica rompendo un po' con le regole del resto è stata Pfizer a rompere gli accordi che già erano molto pesanti per il governo contrattuali nei nostri confronti rischiando di creare un problema veramente serio per quanto riguarda quell'immunità di Greggio che si allontana perché vi